ciao a tutti buongiorno eccomi a fare la mia camminata mattutina anche quando si avvicina la brutta stagione il brutto tempo non fa per nulla freddo quindi si sta molto bene e il bosco è sempre comunque un bellissimo posto vi volevo velocemente riassumere le iniziative prossime di onda vitale quelle proprio nell'immediato ricordo che il prossimo sabato il 28 di ottobre dalle 9 15 alle 12 30 circa quindi in mattinata ci sarà questo convegno medico dove vedremo cosa ci hanno combinato cosa hanno combinato con la medicina negli ultimi tre anni e vabbè purtroppo dobbiamo andare a toccare un tasto per niente comodo fastidioso e però è necessario fare il punto per evitare di ripetere certe cose anche se poi gli italiani in particolare non imparano mai la lezione comunque ci sarà il dottor stramezzi che parlerà appunto del di quello che è successo negli ultimi tre anni perché ci sono stati così tanti morti vabbè che molte persone lo sanno cos'è successo però appunto per riepilogare un po la situazione ci sarà il nostro amico dottor francesco liviero in diretta poi ci sarà in collegamento il dottor paolo penco dal portogallo e il dottor burigana che è il direttore nel comitato scientifico di ipocrati punto org e questi ultimi due saranno da remoto e quindi sarà una mattinata molto interessante anche per fondare le nuove quelle che dovrebbero essere le nuove basi della medicina che dovrebbe tornare a essere arte medica e non più scienza con l'h finale come hanno detto negli ultimi tre anni ripetutamente e poi abbiamo il tre novembre quindi la prossima l'altra settimana ancora inizierà il nostro corso sugli oli essenziali collegati ai chakra e colori saranno quattro venerdì dalle 20 e 30 alle 22 e 30 circa sia in presenza che online sarà una visione degli oli essenziali un po diversa dalla solita dove appunto andremo a collegare i singoli chakra ai vari oli essenziali per equilibrarli e anche i colori che vengono che li caratterizzano quindi secondo me è un corso molto carino un po diverso dal solito e quindi vi invito a iscrivervi ci sono ancora pochi posti poi l'11 11 un non una data a caso 11 11 2023 che fa 11 avremo una mattinata con la nostra maddalena la nostra regina dei tarocchi bravissima faremo un lavoro un po particolare con tarocchi e costellazioni quindi anche questa sarà una bellissima mattinata si terrà asseriate presso sani sapori poi chi vuole fermarsi a mangiare un boccone sarà libero di farlo prenotando prima e appunto giocheremo tra virgolette con le sincronicità quindi anche questo sarà un appuntamento molto molto carino per tutte le informazioni mandate pure un messaggio al 351 582 88 19 vi daremo ogni ragguaglio in merito grazie a tutti vi auguro un buon weekend e a prestissimo con le nostre iniziative ciao ciao